Che hai caricato con questa petta stamattina? Che hai caricato? Vedi, vedi. Che hai caricato? C'è le graticole, le cose. Giovanna, su. Non so che hai caricato. Chi ha appalpendegane. Giovanna Deufordi. Ecco. Allora, io giuro, lo metto, ti metto questa roba, l'intorno, bocca e non è. Robo di un piano che si chiude a mano, non mi chiede. Luiz, questo è un ritrovo. Ah, questo è per le pendegane. E gli ha chiappa pendegane, ecco che si inventa. E poi che c'entrava il dottore? Non lo so, il dottore non c'entra niente. No, doveva venire dal dottore dopo. No, questo, bocca e non mi ha fatto scappare. Ho capito, certo. La nostra voce. Quanto è per la pendegana, non vorrei più scegliere. Batterai di coda, ortezzana? Pino. Ah, sì, dopo devi fare la pendegana. Pino, pure. Non mi resta, anche. Pino, la buonanno delle amiche, eh? 18 con la notte, la ti ha appato. 18 con questa. Dopo che devi fare, di repente? Che dove porta? Per mettere dentro l'acqua e fuoca. Ah. Perché muore, no? Ah. Muore dopo, no? Oh, con la colpiglia... Con la colpiglia d'oro. Che devo fare? Oh, con la colpiglia d'oro. I got him. He's so cute. Che bello. I'm so happy I don't have to kill him. I'm just gonna release him now. He's so cute. Look, 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 look what I got. I got him. He's so cute. I don't have to kill him. I'm just gonna release him now. He's so cute. I got him. He's so cute. Grazie a tutti.